Pago puoi dire sì? Sì Oh basta continuiamo la discussione sul Napoli Ma mi sto piacendo sì Eh vabbè Napoli si è come dopo in ziggio Cioè Napoli si deve comprare il portiere Napoli si deve comprare il portiere e basta No c'è però è poi passata accattà E poi ho passato accattà il Il terzino sinistro Ma al sinistro non dice dal posto Al posto di maniera leva gulam Probabilmente leva gulam Ma questo Matteo Soliveira Mattias Soliveira mi chiama Eh non lo so che è bravo Ma a me non lo so Ricordiamo che pure Edo Vargas era forte nei video Per farti capire Ma appunto quello è il problema Spero che arriverà a... Guai c'è rischia il mochino come siamo? Di luoghi ci fiscalerà a Giorgio la mammo Carbone che cazzito i taggisti Tutti uno vidi e chi l'ha fatto? Ma guarda che fa solo tunnel Dice che è forte Io ho visto L'ho visto nella partita Con più che ha giocato Aspetta che senza la Giorgia che Ero binganzano Si è della Giorgia Giorgia Mi sembra che ho visto una passione della Giorgia Proprio mi sembra stava venire l'altra volta Non mi ricordo che quale motivo C'è giunto lì lo ha Già ma fa l'osservatore Stavo vedendo dopo che ho saputo il Napoli Si ha piatto che L'ho guardato solo a lui Non giocava male onestamente Non è che ho guardato la partita Ho guardato l'intervino Beh vabbè 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 vabbè